L'ipertizione è una condizione nella quale la pressione arteriosa, che peraltro è un fenomeno vitale, perché senza pressione arteriosa non ci sarebbe circolazione del sangue, quindi il nutrimento dei tessuti, la pressione arteriosa è più alta di quella che dovrebbe essere, perché ogni fenomeno biologico ha un risvolto della medaglia, la pressione è assolutamente cruciale per la vita, ma nello stesso tempo le arterie sottoposte alla pressione subiscono un trauma relativo alla pressione stessa.